questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre ragazzi noi ci spostiamo in questo momento in un mondo magico che è un mondo fatto di colori di azzurro di mare un mondo di napoli appariamo eccoci qua e con noi appare anche l'ospite ciao ragazzi ciao alessio questa sera noi c'eravamo detti di fare una chiacchierata molto informale sul su un argomento che c'è tanto caro a me e carlo moltissimo praticamente ci sguazziamo dentro alessio pure un nostro fratello io lui l'ho conosciuto al napoli comic con si è palesato come un amante del city pop lui è venuto vicino ha detto io io non sono io amo però amo il city pop io amo il city pop allora amo il tatuaggio sulla mano incredibile allora questo l'ho fatto oggi dal marchio di bosok è bello è bellissimo come l'ha fatto non è lo stile quello l'ho fatto sembra quasi una aspetta aspetta che ti metto più grande a te aspetta bellissimo come se fosse stile dipinto oppure bellissimo come se fosse sangue è un po' più allogato sul mondo facciamo questo omaggio e facciamo bellissimo bellissimo grazie potente potente allora se mi ricordo male al comic con vabbè io comunque ti seguo e quindi l'avevo visto eravamo il giorno di prefiera mi ricordo era il giovedì sì l'ho fatto 21 anni fa e avevo scritto prima in chat per me posso farvi il meme del 21 anni fa in giapponese perché ma quello nel caso nel caso si viene adesso lo devi fare e per forza lo facciamo ok vai tutto per te un attimo ricordo vabbè non poi tu magari mi fixi le pronunce non farò neongenese evangelion come al solito allora se mi ricordo male l'ordine della grammatica neongenese evangelion se esatto 21 anni fa mi raccontarono manga beru serku che mi raccontarono mi raccontarono mi raccontarono mi raccontarono e sono stato assolutamente criticato ma che fate questa cosa incredibile ma oltre questo filo rosso del destino di meme di Napoli che ci collega ci collega appunto anche il CD-pop e quindi io ti ho invitato in quanto esperto del CD-pop aspettate un parola allora premettiamo che io faccio faccio anch'io contenuti tra virgolette su Twitch e parlo di musica giapponese in generale non solo CD-pop mi sono specializzato inizialmente con le idol e poi dalle idol infatti al Comic-Con dove ho conosciuto Boncaro Domenico mi hanno fatto fare una convention su tutta l'industria idol in generale ma lì ho un po' collegato tutto lo showbiz qualche accenno di CD-pop Eurobeat giusto per collegare il tutto e il CD-pop è un argomento diciamo che esploro da un annetto a una bella una bella storia un piccolo me per come ormai è diventato popolare qui in Occidente ho degli articoli anche da mostrare se vogliamo fare anche un po' di showcase certo mostriamo mostriamo facciamo Eurobeat un fratello esatto Eurobeat che tra l'altro il bello di questa industria musicale giapponese è che è molto collegata all'Italia quindi diciamo che noi italiani possiamo essere orgogliosi abbiamo dato tanto e loro hanno sì molto anche per il CD-pop soprattutto e tra l'altro il CD-pop tra l'altro anche il CD-pop no 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 mi trovo in linea con quello Carlo che dice Alessio dice delle cose però Carlo fa no 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 mi trovo assolutamente con quello che dice lui no che tu vorresti dire un'altra cosa capito no io quello che dico sempre con il caro Domenico è che io personalmente dato che sono entrambe revisitazioni della musica soul funk fusion e jazz americana io ci vedo tantissime tantissime similitudini tra il CD-pop e anche magari qualcosa più orientato verso la jazz fusion tipo Cassiopeia per esempio e Pino Daniele certo certo ma al contrario lo sfondo qua ci ricorda Pino Daniele è una cosa che a me sta cosa non me la leva nessuno da una testa le chitarre di Pino Daniele in certi album anche non suoi come in Io dal mare sì nell'album oltre di Claudio Baglioni sono molto CD-pop ma perché là appunto si avvicina molto di più al pop rispetto al blues e di conseguenza tutto quanto che si incastra insomma ma alla fine ma da dove nasce questo CD-pop da dove nasce allora il CD-pop il CD-pop di base nasce nel tardo 1970 ed è considerato diciamo un termine un po' più storico la nuova musica giapponese sappiamo che comunque negli anni 70 fu l'inizio di quel boom economico che poi abbiamo avuto nel Giappone negli anni 80 e Giappone giustamente si stava occidentalizzando a più non posto tra i vestiti la cultura con qualsiasi cosa marchi elettodomestici cellulari qualsiasi cosa telefoni non ci manco c'erano telefoni insomma un pochino tutto e tra questo anche la musica e comunque il Giappone era rimasto sì nei tempi della guerra a una musica un po' più tradizionale chiamata wagaki oppure musica imperialista perché lì c'era la propaganda della guerra abbiamo conosciuto la storia giapponese e questo CD-pop appunto come ha detto il buon Finelli Finelli giusto? chiamami Carlo chiamami Carlo però si in chat mi chiamiamo Finelli si si ha detto Finelli allora come ho detto tu Carlo siamo ad amici siamo ad amici chiamami Carlo e come hai detto tu Carlo il CD-pop prende prende un sacco di ispirazioni da questi generi che abbiamo avuto in occidente in quegli anni quindi R&B jazz fusion funk boogie soft rock pop disco R&B e abbiamo insomma questo genere comincia a esplodere si è una bella mattina che fa vogacchi sì secondo me ti riferisci alla vogacchi band fantasmano sicuramente allora voglio ok di prendiamo il discorso e sì nasce questa gamma di stili musicali tantissimi artisti che prima cominciano con il genere idol quindi qui il genere idol si va a collegare perché da idol che debuttarono a quei tempi come ragazzi molto molto giovani si parla di debutti dai 14 ai 16 anni dopo la carriera da idol con l'evento del sotsugyo ovvero la graduation il conseguimento del diploma fa ridere questo termine ma poi c'è una storia anche su questo termine e alcune arrivando sulla cresta dell'onda già ai tempi delle idol decidono giustamente di continuare a fare musica e quindi diventano delle cantanti city pop a tutti gli effetti perché rimangono su quel genere ma diventano appunto soliste non più sotto agenzie con producer e direttori vari ma in proprio sotto alcune case discografiche e da qui comincia il boom principalmente solo in Giappone in Italia abbiamo avuto negli anni 80-90 un boom di city pop di musica giapponese molti questi non lo sanno c'è mio caro vecchio zio che lui lavorava in Giappone avanti e indietro e aveva questi dischi di pop ascoltava musica giapponese a più non posso quando è successo io sapevo l'unico contatto di quegli anni era il disco che fece Alessandra Mussolini esatto lì volevo arrivare lì volevo arrivare noi abbiamo questo tra virgolette grande onore di avere un disco city pop cantato quasi interamente in giapponese perché in questo disco abbiamo sia brani in inglese che italiani che giapponese di Alessandra Mussolini nome di questo disco Amore scritto in katakana per chi non lo sapesse il katakana è il secondo affabeto della lingua giapponese utilizzato principalmente per le parole in straniere come ho detto anche Berser che è scritto in katakana ad esempio e questo disco con le odio fammi leggere un attimo perché insomma sono dimenticato si è stato prodotto nel 1982 solo in giappone produttore però inglese non giapponese un produttore tale Mickey Curtis pubblicato dalla casa discografica Alfa come detto brani italiani inglesi e giapponesi i tre brani italiani del disco che sono insieme insieme e stasera mi manchi e l'ultima notte d'amore sono scritti dal grande cristiano malgioio nemmiamolo quanto vogliamo ma cristiano malgioio le penne migliori della musica leggera esatto assolutamente assolutamente veniamolo quanto vogliamo che stiamo malgioio nell'escrittore a livelli di mogol veramente ragazzi a livelli di mogol veramente ma un altro pure non ci azzecca niente con quello che stiamo dicendo Maurizio Costanzo cioè noi lo vediamo l'ha rincagnato noi ci dobbiamo mai dimenticare che se telefonando la cantata mina scritta da Maurizio Costanzo è arrangiata da Ennio Morricone quindi c'è è una cosa che uno non si aspetterebbe mai da Costanzo però come d'altronde non mi aspettavo questi punti di collegamento che tra l'altro ci sta portando Alessia nel mondo del city pop davvero straordinario prima sono stati citati anche dei nomi di artiste dell'epoca di idol che poi sono diventate artiste a tutti gli effetti noi abbiamo anche dei rischi comunque qua eh li facciamo vedere un disco fammi vedere facciamo un disco fatemi vedere tutto che io sono un cacciatore nato di queste cose ah sì allora mi fai competizione guarda che cosa abbiamo portato noi invece ecco qua ebbe ebbe Harry qui mia madre Harry assoluta l'album Timely al cui interno c'è anche la sigla di Cat's Eye occhi di gatto esatto veramente straordinario un album che fa sognare e pensare subito alla spiaggia al mare a dei luoghi è una cosa incredibile ragazzi luoghi di incontri e di amori però tu c'hai un botto di altre robe sì 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 allora questo è anche un altro questo qua è il vinile fatto da lei prima di non mi ricordo mai il titolo del disco però è quello là praticamente in cui ci sta Bay City sostanzialmente che poi non va un poca ma Cross 8592 ha fatto uno dei remix più belli che Future Fund che si hanno mai stati fatti che è Young Bay City che è Mister Metropolis di Junko Yamaha mamma mia mamma mia questo disco ragazzi il deja vu in questo disco è uno dei pezzi cioè la parte normale è qualcosa di incredibile un pezzo di popportissimo poi parte con un bridge enka ogni volta che mi vengono i brividi è una cosa incredibile questo disco questo qua è veramente allucinante e posso chiedere dove l'hai trovati per cui stai quanti sono questi avrai tirato Alessio adesso subito ci vuoi informare fermo restando no perché i CD pop non li trovo io compro musica di tutti i generi però i CD pop non lo trovo è molto complicato più che altro a trovare si trovano il problema è che sono costosissimi ma molto molto costosi quello è il problema allora io personalmente tutti i dischi di vinili che ne ho 4 CD pop che ho comprato sono tutti quanti presi da Discogs che è una buona perché spesso trovi dei venditori che sono inglesi francesi olandesi ma soprattutto i dischi che praticamente importano questi dischi qua e praticamente li vendono che sono proprio le prime stampe dell'epoca li vendono a prezzi abbastanza buoni cioè più di 50 euro compesa per 50-60 euro non spendi diciamo però tipo per esempio questo qua Timely di Harry io questo qua l'ho trovato ma ha avuto una botta di culo esagerata perché come vedete nel lobby street il disco è in ottime condizioni no dietro aspetta tocca spiegare che cos'è il lobby che magari è una particolarità allora lobby è una particolarità che sicuramente molti libri vanno visto non dico solo dischi musica giapponesi ma dischi anche di film i videogiochi i videogiochi i videogiochi della ps1 esatto lobby street è quella famosissima costolettina di carta che diciamo è una sovracoperta della costina dell'album ed è una particolarità che fanno solo in giappone questo di maria che c'è il tachiusci non ce l'ha al lobby questo non lo tiene ma perché hai qualcosa di maria che usci scusami ho solamente questo impressions compact dell'88 questo lo prese questo me lo prese la mia ex una parte questo qua è completo con le shit tutto cioè questo qua questo qua io ho speso tipo un 50 euro con tutte le spedizioni ma se lo vai a cercare adesso parti da almeno 200 300 euro eh si ho veramente una botta di culo esagerata a trovarlo questo qua e si di base questi qua li trovi su discogs però come diciamo sempre io e il buon il buon domenico vuoi trovare gli album city pop mettiti su un aereo per il Giappone imbarca una valigia vuota port vai in un quasi book off ad mandare book off direttamente book off è il paradiso della roba buttano in faccia a poco e niente si troverà di tutto book off è il paradiso perché tu trovi le cose usate ma l'usato in Giappone è praticamente il come nuovo qui in Italia quindi tu vai fatti una una mia cara amica che andò in Giappone 3-4 anni fa mi sono fatto fare un prestito tipo di 200 euro lei stava là in Giappone ok mi compri questo 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 e mi ha trovato dischi limite da 200 yen che sono 1,50 euro anche se da punto di vista dei prezzi io ho parlato ultimamente cioè qualche mese fa ci fu c'era il festival dell'Oriente a Napoli per parlare con uno che praticamente teniva uno standista che stavala che era giapponese e lui mi disse che non capiva questa cosa quale city pop perché diceva ok bella musica però non capisco l'ossessione che avete voi occidentali per questa musica qua e come cazzo io lo fai a spiegare il sound nostalgico che ha praticamente un album city pop e mi ha detto che da quando è cominciata praticamente tutto questo trend questa moda del city pop i venditori l'hanno fatto orecchie da mercante perché mica sono scemi e i prezzi è giustamente ma di brutto proprio anche nei book off che uno diceva do la spendo 200 euro me ne torna a casa con la discografia completa di chi voglio io no no purtroppo non più non più purtroppo poi ci aggiungi il peso in eccesso che paga l'aeroporto perché dischi pesano quella è la cosa minima quella è la cosa che in realtà costa meno di tutto infatti allora parlando proprio di questo che mi ha detto Carlo mi ha dato il là effettivamente per entrare in quella che è la la scoperta sostanzialmente del city pop una scoperta che è avvenuta attraverso internet praticamente perché il city pop è stato riscoperto con penso il pezzo emblema di tutto questo genere che è Plastic Love di Maniata è stato scoperto ricaricato su youtube è diventato uno dei pezzi più ascoltati in assoluto su youtube con milioni di visualizzazioni e piccoli documentari che sono stati realizzati da un sacco di persone che poi sono diventate vere e proprie persone del settore tipo Van Pau tanto per dire infatti quello che volevo dire Van Pau è per me è quello è veramente il nostro padre per tutti noi che praticamente ci siamo asseccati i remix che aveva creato all'inizio no ma le playlist soprattutto è una cosa di incredibile poi purtroppo il suo canale è stato stregato cassato totalmente ed è sparito però lui fa dei dj set si ma lui li ha sempre fatti li ha continui a fare addirittura tutto quanto è esploso fino a quando nel 2018 se ricordo bene questa cosa ha preso talmente tanto piede che lui è riuscito ad organizzare un concerto city pop a Chicago con Henry esatto che ragazze è follia totale e fu un sold out totale infatti si si fu un sold out totale veramente ti fa capire la potenza di questo mezzo la potenza di stare anche qua su internet parlare di questa roba qua che è un genere sostanzialmente come si diceva prima si intuiva dalla chiacchierata nato tra gli anni 70 e gli anni 90 e poi dopo c'è stato un po' il decadimento di tutto questo anche perché il city pop racconta attraverso le sue righe di testo sofisticate belle musiche anche di un periodo bello si racconta di un Giappone potente della città di Tokyo importante uno dei protagonisti fondamentali è l'estate l'estate sempre sempre natsu ci sta sempre il problema anche perché nel disco che hai mostrato è il concept lei nelle foto che sono in spiaggia cioè proprio l'album della spiaggia e infatti quando è che poi alla fine va un po' a decadere tutto questo genere quando scoppia la bolla economica giapponese esatto 1992 più o meno quando ci si rende conto che in realtà il Giappone non è così ricco come sembrava esserlo fino a dieci anni prima allora diventa anche difficile perché come fai da artista a cantare di un paese bellissimo quando poi non è così bello quando hai perso tutto quando non hai più la tua ricchezza quando quella confidence che nasceva dal fatto che il Giappone era una superpotenza mondiale da un giorno all'altro non l'è più e quindi il genere è andato un po' a decadere ed è stato riscoperto poi nel 2018 dalla potenza di internet ed è stato così forte fra l'altro che la Warner che possiede naturalmente i diritti delle canzoni di Maria Tagheuchi Plastic Love in Giappone questa canzone non ha mai avuto un vero e proprio videoclip ok il videoclip lo hanno creato due anni fa l'anno scorso esatto l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso hanno creato il videoclip di Plastic Love dopo tipo 36 37 anni ed è 84 quindi fatti conti su tipo sì praticamente quasi 40 anni praticamente pensate quanto tempo c'è un mese però tutto è accaduto perché c'è stata una spinta energica fortissima qua su internet perché si amava molto il CD pop secondo te Alessio quali sono gli album più belli del CD pop e cosa ti evocano naturalmente allora ho una lista abbastanza lunga quindi molti titoli non mi sfuggono però ti posso dire qualche brano soprattutto Quest Impressions è uno di questi soprattutto perché comunque è un disco molto molto grano che si parla più nel cioè se ci ci immaginiamo come anche nella copertina maria sdraiata su un campo di grano e tutti questi testi se li traduciamo come stare in campagna isolati da tutti via da queste grandi metropoli con le luci al neon oppure anche altri brani che sei qui con il tuo amato oppure senza c'è un po' un'alternanza di questi di questi concetti un altro bano che mi viene in mente sempre della Takiyoshi che adoro un sacco è Yume No Tsuzuku che è il mio preferito in assoluto che è fatto in collaborazione con Yamashita Tatsuro che Domenico so che è un grande amante di Yamashita Tatsuro fai vedere un regalino che poi è un regalo di Carlo c'è un disco proprio qua anche di di Angelo alla fine corale con Ride on Time eccolo eccolo Ride on Time Yamashita Tatsuro eccolo qua che bello grande disco quanti bei pezzi ci sono anche qua dentro e questo bano a me piace un sacco perché a parte la canzone che in sé per sé significa continuo è il tuo sogno Yume No Tsuzuku sogno continuo oppure sogno che continua non è scritto ufficialmente nel brano fit Yamashita Tatsuro Yamashita Tatsuro però verso metà canzone sentiamo lui che comincia a cantare o anche verso la fine tra lato curiosità Yamashita Tatsuro è l'attuale marito di Maria Tagayushi quindi bomba Futari Futari che è una delle sue più belle canzoni è uno dei brani diciamo lenti city pop per me più belle è proprio migliore ma veramente di una bellezza e di una potenza emotiva incredibile è appunto dedicata all'ata che usci perché se non mi sbaglio all'epoca ancora non era sposato era un attimo ancora vabbè Morning Glory ragazzi se dobbiamo cominciare di tutte le canzoni non la finiamo più cioè veramente prima di dire quello che non è bello rispetto a quello che è bello anche perché adesso ci andiamo a vedere un attimo la discografia quello ha tirato fuori un album all'anno sì 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 quindi diventa complicato cioè Ride on Time che abbiamo fatto vedere adesso è dell'80 sempre dell'80 on the street corner 82 for you poi ha fatto il greatest hits greatest hits nell'82 perché dieci anni prima aveva fatto altri dieci album sì sì ragazzi e poi Melody in quanto giapponese in quanto giapponese mattella proprio tantissimo ma allora livello proprio di un album all'anno tra l'altro proprio Yamashira Tatsuro recentemente è ritornato un po' sulla crezza dell'onda perché aveva fatto la colonna a parte che non si è mai fermato però aveva fatto la colonna sonora di un film animato di Osoda Mirai aveva fatto Mirai molto molto bello anche lì di nuovo quelle belle musiche che ricordano anche un po' il Natale io quando penso a Yamashira Tatsuro mi vengono in mente i suoi campanelli è sempre sempre natalizio lo sai perché è una seconda particolarità lo sai perché perché lui è probabilmente il più grande azzeccato sulla faccia della terra dei Beach Boys dici tu deve essere per questo perché se ci pensi alla fine le musiche natalizie quel tipo là di sonorità che lui le usa sempre è vero sono molto prese dai Beach Boys raga ma il genere di Brian Wilson ci accompagna ancora ad oggi secondo me da questa nostra discussione viene sempre fuori questa roba qua cioè che come se fosse quasi derivativo cioè che deve sempre qualcosa al soul al funk al blues anche al pop americano assolutamente però se dovessimo dire così per chiudere anche la chiacchierata il CD pop che sentimento ti dà però che cosa ti fa provare effettivamente tanto da renderlo così unico tralasciando il fatto che naturalmente se noi dal passato dagli anni 80 a oggi ancora ascoltiamo CD pop e lo scopriamo e lo amiamo e ci può dare un'indicazione di quello che potrebbe essere di bello e positivo naturalmente il futuro perché le emozioni quelle sono immortali secondo te secondo te Carlo? ma chiedo prima all'ospira la mia risposta è già la sai la tua risposta allora il CD pop il CD pop a me dà quelle sensazioni di tranquillità sicuramente quella quella solitudine che però ti fa bene ti immagini tu seduto magari di notte un mio amico le chiama le cosiddette Tokyo vibes che sei seduto su un palazzo seduto con un bel whisky un bel salato di whisky a fumare una sigaretta oppure senza guardi il cielo stellato di Tokyo e c'è questa canzone nelle orecchie e stai proprio rilassato oppure ti dà anche quelle sensazioni di un bel viaggio in macchina con la spiaggia a fianco un bel paesaggio e parlate adesso il CD pop adesso il CD pop si associa alla cultura vaporwave che abbiamo oggi per dirvi che comunque ha sempre questi sfondi e questi concept ha fatto un in chat ha citato la canzone di The Weeknd Out of Time che utilizza un sample CD pop un grande un grande brano di un grande artista The Weeknd comunque ha comunque due cojones di questa maniera sotto vorrei ben dire vorrei ben dire un genere che a me lo ascolto solo di notte o comunque la mattina quando faccio quelle nottate che sto svegliando alle 4 del mattino alle 5 quando c'è proprio l'alba del sole e il mio brano preferito in assoluto è 4.i.m. di Taekonuki proprio per questo il nome e il testo come collega la canzone ma da ascoltare riconosamente alle 4 del mattino 4.i.m. di Taekonuki che cosa è ma Taekonuki che cazzo è ragazzi ragazzi voi non potete capire Spotify sta cominciando a mettere tutti quanti tutti i migliori un po' alla volta stanno apparendo io voglio 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 fare un applauso a Cosmico che ha citato il yellow magic esatto Cosmico ne sa un botto fra ragazzi vuoi vedere che cosa non posso farlo vedere fammi vedere cosa mi aveva dato Cosmico vai vai fammi vedere non si può fare per te ma ti faccio vedere a te eh madonna mia fra yellow magic questa è proprio la storia della musica nipponica ma su ma dove cazzo la tua vada sta roba è un grande ma a prescindere dalle zitte però è proprio è incredibile bellissimo sto no ma perché è un libro praticamente ma ci sono tipo render cgi dei personaggi tipo ps1 ps2 cioè è veramente un tuffo nel passato wow ragazzi yellow magic orchestra sono qualcosa cioè ci sta sono la storia osoda e ci sta praticamente yushisakamoto che ha vinto con l'ultimo imperatore di bertolucci con con non mi ricordo mai il nome del cantante con una delle canzoni più belle comunque di genere diciamo orientale che è stata concepita proprio forbidden colors è come si chiama forbidden colors è incredibile e a te che sensazione ti dai il city pop ragazzi allora io sai come descrivo sempre il city pop il city pop è la musica che io mi immagino sempre da sta scena di una ragazza che deve andare sulla spiaggia a shonan e tipo sta per uscire di casa e sente praticamente in background dalla radio qualcuno che va ed è tipo piena estate negli anni ottante va a piedi piena sulla spiaggia questa è l'immagine di epoca cioè se io ascolto una canzone di city pop soprattutto quella di harry e chiudo gli occhi io quello vedo e quelle sensazioni che mi dà cioè la spensieratezza pure di quegli anni la sicurezza diciamo di tutte le varie sicurezze sia economiche sociali quello che c'era in quegli anni là e veramente la nostalgia per un tempo che noi non abbiamo mai vissuto perché chi cazzo l'ha vissuto negli anni 80 in Giappone ovviamente questa è un'esperienza transmediale metafisica diciamo che ti fa venire voglia di nascere in quell'epoca già se potessi nascere ancora nascerai nel Giappone anni 80 nascereste in quel periodo per vivere quella musica per averla vissuta sì assolutamente ma vivere proprio il boom economico vai lì spendi yen compri tutto vai io vivrei molto volentieri nell'Italia degli anni 60 sia musicalmente sia perché era un periodo floridissimo sì anche anche quello grande ricostruzione vivere diciamo anche se che cosa la speranza nel domani anche quello mi trasmettersi di pop perché vedere praticamente il futuro non per forza con una chiave praticamente oscura o pesante ma con una speranza praticamente molto molto carica la sicurezza che riusciva a dare quella musica quelle canzoni tra l'altro super sofisticato con dei testi mai banali era davvero qualcosa di speciale io vi posso dire che ho cominciato a conoscerlo mentre lavoravo e avevo bisogno di una musica che non mi entrasse nelle orecchie e mi dicesse delle cose perché io lavoro con le parole quindi dovevo scrivere dovevo impaginare non potevo ascoltare testi che poi si rielaboravano nella mia mente potevo rischiare di fare degli errori mi serviva una musica che non significava nulla nella mia testa e il CD pop chiaramente non parlando il giapponese fluentemente non era nulla nella mia testa ma dopo ha significato tanto nella mia vita perché a parte che mi ha fatto conoscere tante altre persone come Carlo ci ha riuniti nell'amore della musica come anche Alessio e tante altre ancora sparse in tutta Italia perché la musica come sempre ci unisce soprattutto la bella musica io volevo ringraziare Alessio del tempo che ha dedicato a questa live è stato gentilissimo per le sue aneddoti la sua cultura molto interessante se posso lasciarvi un'ultima chicchetta ad esempio allora uno aveva scritto Cosmico che aveva citato Yellow Magic che sta scritto per voli piazzati in CD pop allora il CD pop molta gente fa l'errore che pensa ok il CD pop è solo questa musica shill nothing bestiani ma secondo me non è così secondo me il CD pop è anche un artista che anche oggi fa musica ma vuole mettere quelle temati con anche il testo si ispira io come esempio ho questo album ormai costosissimo Henshin citazione a Camer Rider vabbè di Mondo Grosso lui si chiama Shinichi Osawa è un DJ lui fa DJ set il nome di Shinichi Osawa questa è una limited edition c'è il DVD perché i giapponesi fanno il DVD e il disco il CD è lui robot e madonna quanto è lungo sto coso e il disco non vale le versioni umane e in questo disco ci sono remix di canzoni city pop quindi lui si ispira a queste canzoni di city pop e talato ha scelto il nickname Mondo Grosso perché è amante dell'Italia e di alcuni produttori italiani degli anni 70 che hanno prodotto brani city pop e brani Eurobeat ragazzi a meno quanto mi ricordo l'intervista i produttori italiani c'è qua veramente pure là mamma mia quello conosce mondo grosso un fratello tia che è il mondo grosso madonna mia grande ma tanto poi spuntano fuori tutti quanti come funghi sono qua sono nascosti questo chiaramente era diciamo un bagnarci le labbra un po' un capire che cos'era il city pop però se avremo tempo e modo faremo anche delle chiacchierate molto più specifiche dedicate magari a determinati artisti quando volete ci sono disponibili parliamo di artisti merch collezionismo il mercato altri gendini musicali sempre giapponesi la musica giapponese è un mondo a parte mettetevelo in testa partiamo con questo presupposto è così e magari lo scopriremo proprio con queste chiacchierate grazie di cuore Alessio è stato super gentile ma grazie a voi grazie per l'ospitalità ciao a tutti grazie grazie per la chiacchierata ciao grazie a voi ciao 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 siamo qua invece che grande cazzo eh sì un fratello te lo dico gli italiani hanno fatto un italiano disco qualche cosa eh ragazzi ma gli italiani cioè noi cioè da italiano uno tende a dimenticare praticamente la roba eccezionale che abbiamo fatto e tende solamente a vedere la merda a livello di produzione musicale noi italiani a volo così per me regolare noi italiani cioè veramente anche se bisogna dire i giapponesi con la professionalità che hanno cioè tu devi assedire certi pezzi city pop che magari non sono niente di che dal punto di vista dei testi sono veramente banalotti pure ma dal punto di vista della produzione musicale no ma sono incredibili non si mantengono il livello di produzione che c'è dietro sono pazzeschi è la bellezza del city pop vabbè e noi abbiamo beltato abbiamo riruto abbiamo pazziato abbiamo riruto abbiamo beltato abbiamo il city pop è un momento di bappare di bappare eh per favore di bappare Grazie a tutti.